È ora di mettersi insieme per affrontare con vero spirito europeo le problematiche del nostro tempo. Oltre ad alcuni muri visibili, si rafforzano anche quelli invisibili che tendono a dividere questo continente. Muri che si innalzano nei cuori delle persone, muri fatti da paura e di aggressività, di mancanza di comprensione per le persone di diversa origine o convenzione religiosa. Muri di egoismo politico ed economico, senza rispetto per la vita e la dignità di ogni persona.